buone in l ok si inizia per sì quella che non copio steppi bellassini bellassini oggi ragazzi siamo un gioco diverso siamo su cracker cracker no cracker.io ovvero una collaborazione di glitter io e altri gioco.io e ragazzi questo è un misto tra minecraft fortnite bro stars e call of duty è davvero perché non c'è un cacchio vuole della vita sì perché la vita quando avrete presentato anche su quelli di colori tutti quanti e questo è un battle royale è una specie di battle royale non è una specie è un battle royale no non lo è perché ci sono i battle royale hanno solo la modalità hanno solo la modalità ucciso siamo già 175 tra l'altro abbiamo raga vi prego supporto perché abbiamo registrato questo video quante volte vede dico eh questa è la quinta questa è la quinta questa è la quinta non lo fai web iscrivete tutti hashtag luca imbroglia luca imbroglia ah io mi sono scappiato allora io ho chillato lui cinque volte solo che due volte rende la partita precedente però il la cosa c'è prende perché abbiamo registrato questo video cinque volte questa è la quinta perché prendete tra webcam registrazioni di dieci minuti non si capiva più niente perché purtroppo questo programma non può registrare solo ma la vera è una cosa di merda che non può prendersi un programma migliore cioè in realtà questo esiste la versione a pagamento ma non la voglio prendere perché non posso guarda lo giuro la prenderemo però non so quanto cosa no 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 stai zitta adesso ti provo adesso ho titoli per se non agio faccio sul serio fai sul serio va bene ma anche non potevi in realtà se fai sul serio tu cito comunque la figura è verde eh sì sì eh sì sì tu sei fidanzato no e tu no e mai lo sarò perché non lo voglio essere vabbè non cerchiamo questi discorsi di merda eh sì tu devi trovare tu devi trovare la tua nuova gemella non hai capito se non la trovi è un guaio è un guaio se non la trovi vabbè me la sto facendo non so neanche dove abito però me la sto facendo ma chi tanto uno si può passare e alzare come se il fortelet mi piace solo perché è divertente cioè questo è fortelet 2 praticamente perciò ho portato un video ma tu dove sei tutto questo sto facendo il giro giro tondo da mezz'ora questo raga questo questo è un gioco io sono vicino all'albero l'unico albero della mappa eccoti hai detto che fai sul serio ma avevi detto che facevi sul serio sbaglio no perchè questo ho sbagliato anche il personaggio bravo ma io ho capito no no basta ok io sono ancora vicino all'albero vabbè questo è una partita sono partite che durano due minuti mi pare o tre non mi ricordo però ho vinto due due tre minuti no durano due sì sì durano tre minuti allora cambiamo personaggio a sto punto visto che a lui fai cazzare questo è il secondo round vi faccio il mio ricordo comunque i minuti sono quattro fra quattro sono tre nei due ah sono quattro quattro minuti vabbè allora calcoliamo così non si interrompe più la registrazione eh che bello eh chi mi metto cosa chi mi mettermi chi mettermi è il cecchinatore counter vai giochiamo questo ha un cecchino ragazzi questo ha un cecchino che è il bolt action di cortlatt no questo è il sistema automatico di cortlatt non è il bolt action bolt action sparano cortlatt basta che siano ardi ecco basta che sparino esatto tra l'altro questo gioco si può giocare da telefono e da computer quindi troppo da play oh che cazzo che cosa la mia corsa che cosa è il barco che è il suo gioco il bazzucca io te lo dico ma si no che è il mio dici ah ma è il suo gioco quello che è il bazzucca eh il bazzucca troppo forte ma sono troppo forte ma sono troppo meno vita di quello con la macchina ma è il bazzucca ma è il bazzucca di bazzucca si è il bazzucca pure il bazzucca io non lo so non lo so usare io il cerchino provo a usarlo dopo e mi riammazzo ok io il cerchino che sono troppo forte col cerchino e col pompa con le vitraiette e gli scarre sticca uccidi d'assalto in italiano uccidi d'assalto in italiano uccidi d'assalto in italiano oh porco due è arrivata proprio una cecchilata in culo no raga se hai visto il colpo proprio che va arrivato in testo infatti ho visto la scena di oggi sei visto nel video se quando vai a vederlo esatto quando vai a vedere il video non lo so no io non vedo non so che sicuro devi vedere il video dai c'è sto video perché magari non dovevi vedere se sei venuto bene o male magari non dovevi vedere se sei venuto bene o male no no quanto valevate non valevato niente ma che cazzo ti ma è un caccia quello che tiene tu è un cacchio di lanciaralbi se non lo capito ma non è un cecchino ma non è un cecchino ma non è un cecchino ma c'è no no B No no Di 5 punti vinco vinco di 5 punti forse no 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 tu lo vinci ma voglio anche cambiare l'arma eh 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 e' bella la pistola e' vasta così taltro qua le munizioni le munizioni sbd quindi che bene gli portrò non è vero per farlo c'era posto non vuoi sono supporto tutto posto di un certo è più bello perché magari è realistico intanto va arrivare il posto è realistico è per adulti non ce l'hai vero? no io non ti vedo sto dietro di te brother oh yeah stai fermo no no mi suicido però scusa chi ha vinto? oh io no 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 allora arriviamo in piazzetta e vediamo chi mi aveva vincito e va basta sto lanciananzi levatelo però il lanciananzi non vale no no è l'unica arma che lo vale no non mi futto questo è un complotto è l'unica arma che lo vale deft vaffanculo no è l'unica arma che lo vale la ciananzi l'ho detto va bene va bene raga non lo usiamo più quanti minuti metti in pausa beh l'hai messo già in pausa per me ma allora ragazzi per me da me e da questo gioco bellissimo che si chiama krunker.io è tutto scusa ma io? eh appunto saluta è l'attimo allora noi ci vediamo nel prossimo video spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video adios ciao adios 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 ciao